www.malizopoli.it, un piccolo flash sul de minimis. Che cos'è questo de minimis? Il minimis è la regola dell'Unione Europea che stabilisce per ogni Stato quanto può erogare ad un'impresa di contributi. Quello attuale è di 200.000 euro in tre anni e di 100.000 euro per le imprese di autotrasporto. Nel 2024 triplicherà, quindi avrà 300.000 euro per ogni impresa in tre anni, compresa quella di autotrasporto. Questa agevolazione del de minimis e che i contributi possono ricevere le imprese. Direi che vi riporto qui poi l'articolo e riguarda anche le imprese di autotrasporto che fino ad ora erano state escluse dalla regola del de minimis. Importantissimo per le imprese, visto che hanno usufruito del de minimis molto abbondantemente nel malagurato periodo della pandemia. Quindi importante per il 2024, per tutte le imprese. Alla prossima!